Emanuele, tu sei francese, vivi in Italia ma voterai domenica prossima, sei per Macron, però ieri abbiamo assistito a qualcosa che in Italia abbiamo già visto per esempio, noi la chiamavamo strategia della tensione. Cosa pensi che accadrà dopo quanto è successo ieri sera sulle scelte? Il mio timore sarebbe che dasse più favoritismo a Marine Le Pen, perché questa politica dell'attenzione potrebbe magari spostare un certo elettorato un po' ancora indeciso verso una Le Pen che dimostra di essere molto più bacchettona su determinate tematiche che riguardano il terrorismo. Noi come En Marche e io come marcheuse preferisco rispondere con una distribuzione di tratti a favore di Macron, perché io credo che l'unica soluzione è proprio rispondere con progetti, con qualcuno che abbia un'idea forte di un'Europa forte e unita, piuttosto che coltivare il terrore. Senti, però ieri sera gli analisti politici hanno rilevato che Marine Le Pen ha detto che occorre una sollevazione nazionale contro l'Islam in quel di Parigi e più in generale in Francia. Tu cosa pensi che bisogna fare concretamente per superare questo stallo? Perché obiettivamente in questo momento la Francia e i parigini in modo particolare sono obiettivamente spaventati? Eh, posso immaginarlo. Io credo sì, sicuramente i gruppi islamici francesi e i moderati dovrebbero esprimersi forse con forza, ma io credo che lo fanno già. Non credo che la violenza sia la risposta sia al terrorismo e via di seguito. Io credo più a creare dei ponti con questi paesi islamici, per tenere commerciali come l'Algeria, la Tunizia, il Marocco, dove comunque culturalmente possiamo anche, in un certo senso, essere simili o comunque ci possiamo capire, visto la nostra storia. sicuramente il problema dell'Islam è un grosso problema per tutti, perché pone un problema al centro, quindi l'integrazione, cioè io come ripeto e come ha detto anche Macron, nessuno sopra la bandiera. Va bene il rispetto delle proprie religioni, a condizione che non intralciano la Repubblica, le leggi della Repubblica. Quindi finché si trova questo consensus con l'adesione al rispetto delle leggi locale, credo che si possassi, certo, lasciare tutti quanti liberi di praticare la propria religione. Io credo che il problema dell'Islam non è tanto su... permette a queste persone di praticare la loro religione. Io credo piuttosto che di far capire che nel momento in cui si sceglie un paese e si sceglie anche la nazionalità di un certo paese, uno deve anche meritarlo, quindi deve anche integrarsi, accettare le leggi e il modo di vivere di questo nuovo paese di accoglienza e fare in modo di unire e armonizzare una vecchia, una sua cultura d'origine con quello del paese ospitante. Ti faccio ancora una domanda. Tu ti spieghi perché nel mondo, diciamo così, islamico sono stati presi di mira alcuni paesi, l'Afghanistan, la Siria, l'Iraq, ma dell'Arabia Saudita non si parla mai? Non si parla mai, non c'è mai niente che succede, infatti è un po'... io personalmente, questo è un mio pensiero personale, io credo che il problema islamico non aspettava a noi gestirlo, doveva essere gli paesi arabi a gestirselo. Soprattutto perché io mi ricordo di un episodio in Algeria con un tassista che mi aveva accompagnato a un appuntamento di affari e nel lasciarmi al mio punto d'incontro il tassista ha un incidente stradale, il che io come francese subito, capendo che l'artista non sapendo né leggere né scrivere, chiedo al mio cliente di intervenire in suo favore per aiutarle a compilare la contestazione amichevole. E lui mi fa, non ci penso minimamente se la devi sbrigare fra di loro. Quindi già secondo me questo ci dovrebbe far interrogare seriamente se noi abbiamo ovviamente il potere di poter decidere la forza di fare pace fra di loro e soluzionare il problema. Io francamente credo di no. Scusami, voglio farti un'ultima domanda che secondo me è importante provare a inquadrare quello che potrebbe accadere se vincesse il 7 maggio al secondo turno Marine Le Pen. Secondo te cosa potrebbe accadere in Francia, cosa potrebbe accadere in Europa? Allora, io penso che lei non vincerà Marine Le Pen. Marine Le Pen è stata, secondo me, un po' all'inizio voto sanzione, proprio perché una classe politica sia di destra che di sinistra non volevano sentire l'appello, il grido d'aiuto che chiedeva l'elettorato francese. Un cambiamento, un segnale di cambiamento. Quindi Marine Le Pen è stato, diciamo, un attimino voto sanzione. È vero che sui discorsi certe cose sono anche giuste, non sono da escludere, c'è anche cose realmente concrete. Che cosa, secondo te, dice di giusto Marine Le Pen? Il problema dell'immigrazione è lei che comunque ha avuto il coraggio di affrontarlo realmente, non dico nel modo giusto, ma comunque di metterlo sul tavolo, perché è un problema. Quindi va accompagnato, la gente deve capire, deve accettare l'immigrazione, deve essere fatta di un certo modo. Come dicevo, sono comunque l'unione di diverse culture. come possiamo coabitare con loro. Perché comunque sia, questo modifica anche le nostre società. Volendo o non volendo, c'è una trasformazione cruciale, cioè in fondo radicale nelle nostre società. Quindi lei, secondo me, poneva proprio il problema in questo senso, anche se non formulato direttamente così. Comunque lei, con il fatto che denunciava una troppa immigrazione o comunque una necessità di un tavolo per riflettere come integrare questa o controllare questa immigrazione, lei ha avuto il coraggio forse di parlarne dove la destra, la Francia e la sinistra non ha avuto il coraggio di farlo prima. Quindi lei è forse una conseguenza di cosa non si è fatto prima. Quindi cosa accadrà se dovesse vincere lei, secondo te? Secondo me è un bel marasmo perché lei so che vorrebbe portare avanti il referendum per l'uscita dell'Europa. Quindi l'elettorato francese che anche l'ha votato andrebbe fino in fondo nella scelta di uscire da un'Europa con tutte le conseguenze che per noi come la Francia implicherebbe. perché noi non è che eravamo come l'Inghiterra con la sterlina. Noi comunque siamo dentro l'euro con la moneta. Quindi ci sono anche conseguenze economiche non da poco. Io credo personalmente che lei non vincerà perché è vero che l'elettorato francese ha votato l'ultima volta per Le Pen ma non ha riconfermato per il secondo turno il voto dato al primo turno. Io credo che ci sarebbe una mobilizzazione che lei si trova con Marco o con Fillon o anche lì forse con Amon. Io credo che comunque l'elettore francese pur di non farla vincere con il timore di avere troppo radicalismo ma più che altro tensione internamente nel territorio francese voterebbe il male minore. Il male minore tra parentesi perché anche lì per alcuni forse non lo è nemmeno il male minore. Cioè magari per lei è comunque sempre l'espressione di un delettorato francese che pensa che quello che lei propone sia giusto. Grazie a tutti.